Wow! Andiamo a raccoglierla, vieni, aspetta, vieni a prenderla, piano piano. Bravo! Bravo! Attento che pesti la cannuccia. Pesa! Bravo! Il nostro leoncino è tornato a far sentire il suo ruggito, solo poche ore fa lo avevamo lasciato steso sul lettino dopo la seconda operazione e adesso guardate che roba. Il nostro piccolo Joe fa davvero piangere dalla gioia non solo mamma Erika e papà Bruno, ma anche tutti noi, tutti voi che abbiamo e che avete seguito e si continua a seguire quella che possiamo chiamare una grande storia d'amore. Perché grazie all'amore di tutti voi telespettatori che questo cucciolo di guerriero oggi riesce a piegare la gambina, dopo la delicata operazione effettuata dal professor Paley nella sua clinica in Florida, dove si trova Joe, che sta rimostrando tutta la sua grinta. Domani sarà dimesso dall'ospedale e intanto non possiamo che appoggiare quello che dice mamma Erika in questo video. Guarda che vero campione che sei! Sì, caro Giovanni, sei proprio un grande campione, il nostro grande campione.